La musica è nelle mie vene. Io diventerò un musicista! Mi sono molto divertita perché è stata un'esperienza che non conoscevo. I musicisti sono egoisti e inaffidabili. Niente più musica, obbedirai alla famiglia. Niente musica! Di mamma Coco cosa c'è in me nel film? L'età, non siamo tanto lontani, è una donna sentimentale che ricorda con grande affetto tutta la sua famiglia precedente e a che è questo nipotino che ama molto. Bentornati! Qualcosa da dichiarare? Effettivamente sì! E qui tu lo riconosci, quindi è papà! 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 Esatto! Papà! Un po' triste o no? No! È felice! Sì, questo è papà! Papà! Dante, aspettami! Devi starmi vicino, bello! Non sappiamo dove ci troviamo! Il rapporto tra mamma Coco e Miguel è molto piacevole perché lui è molto affezionato a questa nonna. Io con i miei nipoti ho un buon rapporto, sono molto piacevoli, divertenti. Non abbiamo tantissimo tempo da stare insieme ma quello che possiamo fare insieme lo facciamo molto volentieri. Che c'è che non va? Più lenta però. Che c'è che non va? È difficile, sembra facile, ma è un'altra roba! Eh sì! Ragazzi, vi aspetto tutti dal 28 dicembre al cinema per rivedere insieme questa fantastica avventura di Coco. Ascolto la Pianca Un'altra roba! Ascolto la Pianca Come Salto! Ascolto la Pianca Ascolto la Pianca Come Salto la Pianca Assi che hai da fare insieme questa notite attrazione che talibano che speri finire